Oroscopo del giorno. Venerdì 31 maggio 2024. Ariete. Amore. Questa sarà un'ultima giornata del mese in cui le emozioni saranno essenziali e la posizione di venere sarà vantaggiosa per ogni rapporto. Anche per chi è ancora single. Lavoro. Molto bene anche per il lavoro ed i progetti perché giove sarà come favorirvi. Toro. Amore. Non avrete venere in congiunzione e maggio in amore potrebbe non concludersi proprio al meglio. Alcuni rapporti personali dovranno fare una maggiore attenzione. Lavoro. Mercurio e giove potrebbero veramente darvi grandi situazioni professionali oggi. Gemelli. Amore. Il pianeta dell'amore sarà in congiunzione e questo maggio in amore potrebbe chiudersi con tante emozioni belle. Godetevele tutte con la persona che avete al vostro fianco. Lavoro. Potrebbe esserci poca fortuna in questa giornata ma non ci saranno problemi importanti per la maggioranza. Cancro. Amore. Questa venere favorevole vi permetterà di avere emozioni e sentimenti al top durante l'ultimo venerdì del mese. La giornata sarà abbastanza interessante anche per chi è ancora single. Lavoro. Mercurio sarà in buona posizione, al contrario di Marte che vi farà ancora sentire molto stanchi. Leone. Amore. Tutto ok in amore quest'oggi. La posizione di venere sarà interessante sia per chi è già in coppia sia per i single che vogliono iniziare a fare una conoscenza nuova. Lavoro. Giove sarà favorevole e questo venerdì potrebbe regalarvi belle soddisfazioni. Vergine. Amore. La posizione di venere in questa giornata non sarà attiva quindi alcuni rapporti personali potrebbero avere dei problemi da dover risolvere. Occhi aperti da questo punto di vista. Lavoro. L'opposizione di Giove continuerà a darvi del filo da torcere anche durante l'ultimo giorno del mese. Bilancia. Amore. Bella la giornata odierna anche perché la posizione di venere inizierà a pensare anche al mese in arrivo. Un venerdì veramente piacevole in amore. Lavoro. Il sostegno di Giove per questo ultimo venerdì di maggio potrebbe essere essenziale per raggiungere dei buoni risultati. Scorpione. Amore. Qualche problema sentimentale potrebbe essere finalmente superata così da godere un po' di più delle emozioni e dei rapporti affettivi. Sia amorosi che di nuova conoscenza. Lavoro. Veramente ottimale la posizione di Giove per oggi. Risultati e soddisfazioni più che possibili. Sagittario. Amore. Purtroppo questo mese finirà non troppo bene per i rapporti sentimentali in quanto la posizione di venere sarà opposta. Fate quindi attenzione ai problemi con il partner o con un incontro nuovo. Lavoro. Anche Giove sarà in opposizione. Intoppi professionali da dover gestire. Capricorno. Amore. L'aspetto positivo del pianeta dell'amore oggi si farà sentire veramente tanto e chiuderà a meglio maggio in amore. Tutto molto bene per le relazioni e per le nuove conoscenze. Lavoro. Un venerdì in cui Marte sfavorevole non vi abbandonerà. energie basse. Acquario. Amore. La posizione sfavorevole di venere per questo ultimo giorno del mese potrebbe portare delle complicazioni sentimentali. L'attenzione per determinati rapporti dovrà essere fondamentale. Lavoro. L'aspetto buono di Giove sarà tutto ciò che vi serve sul posto di lavoro. Possibili risultati soddisfacenti in ufficio. Pesci. Amore. Con la vostra dolce metà potrebbe non essere una giornata fortunatissima ed infatti la posizione di venere non sarà favorevole. Proprio per questo motivo dovrete porre attenzione a determinate situazioni sentimentali. Lavoro. Molto bene invece per il lato professionale in quanto Mercurio sarà in una posizione abbastanza buona. Se il video ti è piaciuto metti mi piace iscriviti al canale e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie.